Casa Italia, giornata a Milan, finalmente si festeggia, finalmente si festeggia questo oro meraviglioso che ha il Covid. Che emozioni sono molte, veramente siamo tutti molto contenti, molto soddisfatti. Domani rientreremo a casa, ad aspettare ci saranno le nostre famiglie, i nostri amici. Mi sono mancati molto, penso che siano mancati al tutto. Per questa medaglia abbiamo fatto molti sacrifici, siamo stati molto tempo lontani dalla famiglia, lontani dai nostri cari, dai nostri amici e quindi questo riepiloga tutta una serie di sforzi, sacrifici, corona il tutto. Quindi veramente siamo molto molto contenti, anche se per il momento penso che nessuno si sia reso conto di quello dell'impresa. Tu stessi ancora fai fatica a realizzare i lavori? Sì, beh, io realizo che alla fine abbiamo vinto, abbiamo fatto un ottimo tempo che sinceramente penso che non ci aspettassimo neanche noi e quindi sì, penso che tutti noi realizzeremo quando arriveremo a casa e vedremo la reazione dei nostri cari. Come festeggierai? Hai già qualche idea o non lo so, anche un regalo che ti piacerebbe farti? No, assolutamente, non ho nessuna idea e non vedo loro solo di riapprazzare la mia famiglia e facendo un po' di tempo con loro. La stagione poi non è finita, ci sono tanti altri impegni, come proseguirà il gruppo 2021? Io adesso in programma ho fino ad agosto il Big Bang Tour e il 3 di ottobre ho la Roubaix, poi ci saranno campionati europei e i campionati del mondo su, estremamente, quindi... Ti dividerai quindi sempre comunque tra pista e strada. Esattamente. Hai fatto quest'anno per la prima volta il fiambre e adesso ti butti nella mistura della Roubaix, quindi insomma il coraggio è un'antimante, è bello questo stagione, no? Ma sì, alla fine la Roubaix è una delle gare di cui piacerebbe colore un giorno, un sogno. È la tua borsa, è la tua borsa, ti piace, ti piace, ti piace. Esatto, quindi solo parteciparci sarebbe, significherebbe molto per la gare. Già comunque in termini di esperienza, devo dire, sarebbe una testa. Già, esattamente, fare per un ragazzo giovane come me, fare esperienza è una cosa, penso, più importante. Con più come hai parlato della Roubaix a proposito, perché anche lui è un altro... Lo so, lo so. No, guarda, in questo periodo abbiamo parlato solamente di questo, poi si verrà. Vai a vedere questa medaglia, allora Jonathan, che è veramente una medaglia bellissima. Pesa un bel po', sì, sì. Meravigliosa. A chi la dedichi? C'è una medaglia speciale? Eh, questa medaglia speciale va dedicata a tutti coloro che hanno creduto in me, a tutta la mia famiglia che mi è stata sempre accanto, a tutti i miei amici, a Marco, ai ragazzi che comunque hanno creduto in me anche loro e ai ragazzi che comunque, parlo dei ragazzi dell'artista che sono rimasti a casa, che hanno contribuito anche loro alla vittoria di questa... A costruire tutto quello che avete fatto. Esatto. A contribuire anche loro alla mia formazione, alla mia esperienza. Quindi l'ho dedicata a tutti loro, a tutte le persone che hanno creduto in me e in noi. E tu l'hai ricambiato, diciamo. E io l'hai ricambiato. Alla grande. Esatto. E siamo solo all'inizio. Complimenti Gianluca. Grazie. Grazie.